Buonasera amici ascoltatori e bentrovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 19esima giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Trastevere ospita il San Nicolò Notaresco Interviene Esposito in mezzo a tre, prova ad andar via, attenzione al pallone che schizza in zona Pampano C'è Semprini che compie un miracolo, arriva anche il fischio del direttore di gara Poi Corsetti, vuole tenere il pallone, riesce a sventagliarlo in zona Cervoni, deve evitare la rimessa, riesce a farlo C'è la penna che può entrare in area di rigore, la penna, il destro traversa Così perché Shiba va a rinvio, ancora Notaresco in dieci, a vuoto Tarantino, allora Maio prova il tiro Maio e porta avanti il Notaresco con un tiro da lontanissimo Fermarsi si lamentano, Monni e Sannipoli, poi Corsetti senza fallo, si fa perdonare Proia Largo c'è Crescenzo, pezza il tiro Crescenzo, lo finta Poi il sinistro, Shiba Ecco Proia, la sposta è il numero 11, vuole il cross sul secondo palo, di testa Lo porto, si salva Shiba ancora Si è ripreso a giocare con Proia Passa il pallone, raccolto da Corsetti, area di rigore Corsetti sinistro, il pareggio del Trastevere Con Claudio Corsetti al terzo minuto della ripresa E' uno a uno Poi il colpo di testa di Maio, dall'altra parte si è mosso Esposito Che cerca Di Arra, scontro durissimo, attenzione Perché Di Arra era già ammonito, allora arriva il doppio giallo e il rosso Con la penna che riceve adesso, può partire il numero 7 Rientra sul sinistro, poi il pallone di Monni verso Cervoni Attacco del Trastevere, sul secondo palo Il tentativo di testa Daniele Crescenzo, il destro che arriva sul secondo palo Lo mette giù Sannipoli, poi il tocco di mano Calcio di rigore in favore del Trastevere Arriva adesso La rincorsa di Proia, gol Mancino Vantaggio Trastevere Al diciottesimo minuto Daniele Proia, quinto gol in campionato Vai Lati, arriva adesso Crescenzo sul primo palo La spizzata, bel colpo di testa fuori Clamoroso Guardare Crescenzo È uno schema per Corsetti Stop E destro Esplode Trastevere 3 a 1 Esplodono i tifosi La doppietta di Claudio Corsetti Massarotti allarga tutto Frederick al centro Maio vuole far proseguire Riesce a farlo Il tentativo murato Poi arriva il destro di Pesce Semprini Maio Ma non è finita Dal pallone al centro Ancora un tentativo Murato Difensori di Mazza A salvare il risultato La penna Dopo lo splendido dribbling Mette in moto Fioretti C'è Corsetti In area di rigore Corsetti Corsetti Poker Trastevere La tripletta del numero 10 Che chiude la gara E finisce qui Il triplice Vischio Definisce la vittoria Del Trastevere Che torna a vincere Lo fa in grande stile Che torna a vincere